L'età dei ricoveri si è abbassata nell'area non critica, ovvero abbiamo una maggiore incidenza della fascia sotto i 70 anni. In Veneto la maggioranza relativa dei ricoveri per Covid, poco più del 30%, riguarda la fascia d'età che va dai 45 ai 64 anni. La fascia 75-84, che deteneva la maggioranza relativa durante la seconda ondata quest'inverno, è invece scesa al terzo posto, scavalcata anche dai 65 ai 74 anni. Penso che il vaccino incida, nel senso che iniziamo ad avere i risultati del vaccino, sapendo che le categorie prevalentemente vaccinate sono quelle superiori agli 80 anni e alle persone fragili, quindi che erano quelli più a rischio. Il numero di ricoverati della terza ondata di coronavirus continua a salire, ma con delle differenze rispetto alla seconda ondata. Tra l'altro, secondo alcune valutazioni, potrebbe essere oramai vicino al picco. L'ospedalizzazione è in aumento, in aumento in modo meno rapido rispetto all'ospedalizzazione di novembre, ma in continuo aumento, quindi bisogna ancora stare attenti, mettere mascherine, distanziamento e frenare. Il rapporto di chi poi deve andare in terapia intensiva è più alto rispetto alla seconda ondata? Allora, il rapporto tra i ricoverati in area non critica e le terapie intensive è similare a marzo ed è inferiore rispetto a ottobre-novembre, ovvero ottobre-novembre avevamo un numero di ingressi del rapporto superiore in area non critica rispetto alle terapie intensive. In questo momento si nota un rallentamento, una crescita meno veloce in area non critica rispetto alle terapie intensive nel loro rapporto.